Carissimi amici faccio questo breve video per anzitutto ringraziarvi della grande solidarietà che stiamo sperimentando in questi giorni dopo il furto che abbiamo subito in questa parrocchia, nella nostra parrocchia, purtroppo ai danni dei bambini e della nostra scuola calcio. Io vi ringrazio, ripeto, vi ringrazio tutti coloro che a vario modo si stanno facendo sentire vicini a noi e alla nostra comunità, alle varie associazioni, alle varie radio, alle varie persone che mi hanno contattato personalmente, a tanta gente comune, alle tante associazioni che in questi giorni ci stanno facendo sentire il loro affetto e soprattutto anche la loro vicinanza con l'acquisto di tutto il materiale che ci è stato sottratto della scuola calcio. Vi ringrazio ancora e per chi volesse ancora aiutarci a recuperare tutto quello che abbiamo perso mi può contattare personalmente. La rabbia del momento che avevo avuto il primo giorno del furto si è trasformata in speranza anche grazie alla vostra testimonianza. Da una morte stiamo avendo una resurrezione e questo è anche merito di tutti voi che con la vostra solidarietà ci state aiutando. Grazie, grazie, grazie che diventa preghiera e diventa ringraziamento da parte dei nostri bambini che stanno riavendo le cose sottratte. Buon anno e grazie ancora.